ciao a tutti guardate penso che riconosciate questo questo percorso immaginatelo in 2d esatto è super mario e ci troviamo in un'altra mappa musicale di blammo un creatore di mappe musicali in minecraft bravissimo non ci resta che ascoltare subito la colonna sonora di super mario bros 2 siete pronti via troppo bravo è un grande blammo complimenti ancora e mi raccomando seguitemi vi farò vedere altre mappe musicali e altre cose fighissime di minecraft e di del mondo dei videogiochi ciao a tutti per questo video è tutto ragazzi iscriviti al canale e buon divertimento ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti